Sono conosciuti come agenti infiltrati o sottocopertura. Sono i poliziotti che si inseriscono all'interno di contesti criminali con lo scopo di acquisire informazioni vitali per le indagini. Oggi ne incontriamo uno. Come si diventa agente sottocopertura? Per diventare agente sottocopertura, innanzitutto bisogna fare un test psicotitudinale e successivamente, una volta idoneo a questo test, si fa il corso di formazione presso la direzione centrale di servizi antidroga e di alta formazione. Vengono insegnate le tecniche di infiltraggio, di aggancio. Vengono insegnate soprattutto la materia giuridica. Poi viene insegnato i vari tipi di stupefacenti, l'evoluzione dei stupefacenti, quali sono le vie di trasporto e i metodi di trasporto. E comunque l'esperienza dell'agente sottocopertura, una volta formato, l'acquisisce sul campo. Questi corsi sono effettuati sia da personale della Polizia di Stato che delle altre forze dell'ordine e anche degli enti antidroga esteri. La legge del 2010 dà un senso sia legale sia di partecipazione per gli agenti sottocopertura, non solo nell'ambito antidroga, ma anche per la tratta di persone, per riciclaggio e per terrorismo. Quali difficoltà, soprattutto di natura psicologica, si incontrano in questa particolare attività e quali caratteristiche deve possedere un agente per svolgere al meglio il suo lavoro? Bisogna essere portati per fare l'agente sottocopertura. Bisogna avere una capacità di improvvisazione, bisogna avere anche il sangue freddo in certe situazioni. L'agente sottocopertura si immerge nel ruolo opposto alle sue idee, cioè in un contesto criminale, dove deve ragionare insieme al modus operandi dei criminali, quindi opposto all'essere polizioto, all'essere un tutore della legge. E poi viene totalmente tolto dalla sua vita normale perché non hai contatti con i familiari, non hai contatti per delle ore, anche per dei giorni. Ci sono delle operazioni dove puoi anche sconfinare dal territorio nazionale e quindi rimani isolato. Lavorando in un ambiente contrario al proprio lavoro, quindi vuol dire stare nella parte del criminale, quindi devi avere questo atteggiamento e ti devi concentrare su tutta la fase d'incontro e stando insieme al gruppo criminale. Ci vuole raccontare un'operazione a cui lei ha partecipato? Era un'operazione antidroga dove bisognava consegnare un quantitativo circa di 250 kg di cocaina a vari gruppi criminali. Il primo episodio dove mi sono trovato un po' in difficoltà è durante una trattativa e all'improvviso questo gruppo ha iniziato a fare determinate domande dove al momento non sapevo che rispondere e lì nasce la capacità di improvvisare, di doverti inventare qualcosa in secondi perché ne va di tutta l'operazione o anche della propria incolumnità. Quindi quel momento lì mi è venuto di avere un attacco di isteria, di panico, ho iniziato a urlare. E così questi un attimino si sono calmati, non so se perché hanno avuto paura delle reazioni. Insomma la cosa è andata poi a buon fine perché così sono riuscito a svincolarmi da delle domande o dalle specifiche che loro mi avevano fatto.